Evviva, dai ragazzi, sembra il buono nord, lo so Allora, sono contentissimo perché come sapete anche voi abbiamo vinto 1-0 contro la Fiorentina e abbiamo risposto alla sconfitta contro l'Ellas Verona però così non va perché se perdiamo anche contro l'Atalanta c'è qualcosa che non quadra perché non è che possiamo vincere una partita, poi perderne una poi dobbiamo rivincere per rispondere alla partita precedente ecco, quindi diciamo che così non va bene in poche parole però, oh, butta la mia tela una vittoria contro la Fiorentina 1-0 è una partita non strabiliante a ritmi bassi non proprio alla Sarri perché diciamo che non si è visto proprio questo gran bel gioco anche se tocchi i rapidi di prima, anche belli da vedere però abbiamo creato poco ma ragazzi, non abbiamo subito gol? ma questa è una cosa da scriversi? oggi siamo... vabbè, comunque è una notizia strepitosa questa che era la prima partita del campionato che non subiamo gol quindi vedete no? Sarri cerca di più a trovare una solidità difensiva a questo punto e dopo pian piano costruirà il suo gioco anche perché poi magari siamo sicuri che il modulo sia giusto siamo sicuri che abbiamo i calciatori giusti per interpretare i ruoli secondo Sarri alla fine il ritiro ha servito per ora però calmi, calmi perché ovviamente questo è un anno un po' così che ci serve per creare le basi per il prossimo però un minimo di risultati bisogna anche vederli ritornando alla partita oggi hanno giocato bene tutti tutti quanti perché? perché appunto Milinkovic ha fatto un assist bellissimo quasi di no look per Pedro che poi ha segnato io criticavo Pedro perché gli mancava qualcosina per segnare e oggi mi ha spendito così mi dispiace per Immobile che non ha segnato la difesa titolare ah che goduria, che bellezza a Cerbi, Luis Felipe, mi raccomando non fatevi più buttare fuori perché siete indispensabili poi abbiamo visto i terzini finalmente Sarri ha capito Usai va bene ma non sempre mettimi Maruzic a sinistra e Lazzari a destra mannaggia no? così avete visto già un cambio contro la tonalata io spero ci sia Lazzari l'unico problema di Lazzari è un po' la sua abilità difensiva però tutto sommato si può creare anche molte occasioni è nato anche al tiro di sinistra ho detto qua si segnava veniva giù lo stadio quindi complimenti bella partita tutto sommato a volte bisogna anche vincere così bisogna vincere con poche occasioni ma essere abbastanza cinici e non creando molto cosa che è più non vedevo più fare a Inzaghi che a Sarri però diciamo che a Sarri ogni tanto va bene anche che cambi cosa che io criticavo un po' a Inzaghi il modo di giocare non deve essere sempre ripetitivo sempre quello anche pensiero Sarri cosa ha detto alla fine? che noi non siamo una grande squadra purtroppo mi dispiace ma è vero perché anche con Inzaghi siamo dati solo una volta in Champions una grande squadra ci arriva di più negli ultimi dieci anni io intendo ovviamente quindi noi con Sarri è stato preso apposta per fare questo gradino per essere una buonissima squadra come l'Atalanta più o meno anche se l'Atalanta arriva ogni anno in Champions ultimamente quindi può essere considerata più grande di noi e diciamo che con Sarri dobbiamo fare lo step per diventare una big una squadra tra le più grandi insieme a Juventus che adesso non sono molto d'accordo perché alla fine noi abbiamo vinto la Juve ha perso punti quindi ha una goduria ancora di più perché noi contro la Juve lottiamo ovviamente per il quarto posto allora in poche parole ritorniamo contro l'Atalanta speriamo di vincere sono fiducioso ragazzi io avrei continuato il ritiro fino alla partita contro l'Atalanta e adesso occhio solidità difensiva contro l'Atalanta bisogna non bisogna perdere soprattutto per il morale e qualche rotazione ci può anche stare ad esempio Cataldi lei non può giocare due volte alla settimana perché ormai ha anche una certa età va bene Cataldi che sta anche migliorando Luis Alberto va bene magari di tal partita in corso quando gli altri sono più stanchi lui ha più ritmo però non mi è proprio piaciuto tanto ecco Barsi ce lo preferirei vedere sabato contro l'Atalanta perché soprattutto l'Atalanta è una squadra che corre molto quindi ci serve più fisicità e questo è il mio pensiero poi ditemi sotto che ne pensate nei commenti e che dire anche Strakosha ogni tanto in più non mi disfacerebbe poi comunque Immobile Milinkovic Sarri li deve far giocare perché sono i nostri pilastri a Cerbi monumentale incontro appunto la Fiorentina perché ha annulato Blajovic che era un po' troppo solo diciamo che le azioni che loro riuscivano a creare erano su palloni con gli esterni poi cross che comunque ben visti dalla nostra difesa quindi a parte questo diciamo che noi invece siamo stati bravi più che altro difensivamente stranamente direi e a centro campo comunque li abbiamo tenuti bene e siamo partiti in contropiere quindi una mentalità più difensiva abbiamo creato meno gioco però siamo stati più umili perché diciamo che non sempre si vincono le partite Sarri è un allenatore intelligente e quindi spesso perché noi abbiamo anche più qualità quindi l'ha fatto uscire pian piano e soprattutto in contropiere perché noi siamo una squadra contropiedista anche abbiamo molti calciatori anche veloci e insomma quindi Sarri lo ha capito che soprattutto adesso era più importante non subire gol che proporre gioco adesso quindi ha capito che ha detto restiamo umili stiamo dietro proviamo a ripartire ovvio che abbiamo creato le nostre occasioni giustamente e che dire posso solo godere ecco quindi se volete iscrivetevi solite cosa attivate la campanellina per rompere tutti i miei prossimi video in altra scala video precedenti spero che questo video vi sia piaciuto sotto in descrizione il link per seguirmi su instagram e per seguirmi sugli altri miei due canali youtube detto questo io vi saluto ciao filotti sempre forza razio nel bene e nel male